La situazione è complicata, io sto valutando in questi giorni i danni che si hanno a livello di aumento dei tempi di percorrenza per attraversare la nostra Liguria e devo dire che sono al pari, se non peggio, di quando è caduto il Ponte Morandi, quindi al di là della tragedia umana, delle vittime che ricordiamo sempre, in questo momento tutti questi cantieri sulla nostra rete autostradale creano dei blocchi, tra l'altro che non sono neanche ipotizzabili, per cui possono capitare in qualsiasi momento della giornata che danneggiano tantissimo sia la parte trasportistica, quindi i nostri porti, che la parte turistica. Io per questo chiederò ad Autostrada e lancerò l'idea che Autostrada, proprio come aveva fatto in occasione del crollo del Ponte Morandi, di ristori la Liguria pagando materialmente dei treni che da Milano vadano verso Genova 20 miglia e da Milano verso Genova la Spezia, proprio per permettere a coloro che sono nell'impossibilità di poter viaggiare in macchina e di poter viaggiare almeno in treno, ma naturalmente non la spesa della nostra Liguria, ma la spesa di chi in questo disagio lo comporta. E lo dico anche perché se è vero che la sicurezza ha la priorità su tutto, non è colpa né dei Liguri né dei turisti, se sono necessari tutti questi cantieri in questo momento sulle nostre autostrade. In attesa che venga rispettato ciò che è stato detto a Regione Liguria, ciò che i cantieri vengano tolto il prima possibile, prima dell'inizio vero della stagione estiva. Ma per noi un po' di weekend sono già passati e anche questa settimana abbiamo un sacco di disagi.